La scuola sta bene, è chiaro che giocare a queste temperature sotto l'aspetto del ritmo si possa avere anche qualche difficoltà in più, ma credo questo sia anche per loro. I ragazzi stanno bene, stanno allenando con responsabilità, con cognizione, cercando di attuare quello che stiamo facendo dal mio arrivo e sono convinto che i ragazzi disputeranno una grande partita, così dovrà essere, perché ci vogliamo andare a prendere questo obiettivo. Credo che questa squadra per le prestazioni fatte se lo meriti e bisogna dare continuità a questa prestazione, ma soprattutto bisogna dare continuità a dei risultati, che è la cosa più determinante in questo momento. Spezia si gioca a salvezza e secondo me Spezia ha tantissimi valori, come partita di andata, giocatori molto interessanti, adesso non nominare, ma sono tanti giocatori con le caratteristiche, quelle che piacciono a me, giuste, europee, giocatori molto forti, con le gambe, con tecnica, giovani, sia in attacco sia in difesa. È chiaro che se sei un po' sotto non c'è partita, come è andata che venivamo da partita di Coppa a 120 minuti dove non sei al massimo e Spezia ha vinto meritatamente, per cui bisogna fare una grande prestazione, cercare di sfruttare tutto quello che si può sfruttare e provare a vincere.